Talent Garden, una rete italiana di co-working dedicata a giovani designer, sviluppatori, comunicatori e start-upper, ha ospitato nella sua sede di Torino lunedì 21 ottobre un evento di presentazione del Piemonte Visual Contest, il concorso per la visualizzazione di open data realizzato da Consiglio regionale e consorzio Topics. Alla presenza di numerosi innovatori, hacker e esperti di gestione dati, gli organizzatori del concorso hanno presentato le linee guida e gli obiettivi con cui verranno giudicati e premiati i lavori. Piemonte Visual Contest e Talent Garden Torino, una collaborazione che comincia oggi? Sì, abbiamo pensato di sponsorizzare l'iniziativa Piemonte Visual Contest con un premio offerto da TAG e di promuovere l'iniziativa Piemonte Visual Contest sui nostri canali, anche ospitando l'evento di presentazione all'interno della nostra sede perché crediamo che è un'iniziativa sicuramente molto innovativa e soprattutto crediamo nella collaborazione fra un'iniziativa come quella del Talent Garden e le istituzioni pubbliche per creare valore aggiunto partendo dal talento, dalle idee e dall'eccellenza. Un'ampia parte dell'incontro è stata dedicata a suggerimenti e indicazioni su come produrre visualizzazioni statiche e dinamiche comprensibili dai cittadini. Piemonte Visual Contest, perché è importante visualizzare i dati pubblici in un'iniziativa come questa? Utilizzare la visualizzazione per rappresentare i dati è indubbiamente importante oggigiorno perché permette ad un pubblico più ampio di percepire le informazioni che nei dati stessi sono contenuti.